il leader della lega boccia un possibile mattarella bis ha già detto cosa vuole fare è giusto il cambio ma intanto la sinistra continua a sperare e ci prova il risvolti della partita del quirinale restano legati alle mosse dei partiti che in realtà devono ancora preparare le strategie giuste per non farsi trovare impreparati all'importante appuntamento politico la precedenza viene data alla manovra ma subito dopo l'approvazione di fine anno si apriranno le danze che culmineranno con l'elezione del prossimo presidente della repubblica mentre il toto nomi è già impazzito sul prossimo inquilino del colle la sinistra spera in un secondo mandato di sergio mattarella uno scenario che però è stato prontamento sferzato da matteo salvini che invece vuole puntare su una figura nuova rispetto all'attuale capo dello stato il leader della lega è stato chiarissimo in merito e cogliendo al balzo le intenzioni fatte trappelare dal presidente della repubblica ha ribadito un secco no alla conferma di mattarella mi sembra che abbia detto cosa vuole fare va rispettata la sua volontà ed è giusto il cambio punto in effetti il capo dello stato più volte ha già lasciato intendere di non essere disponibili a restare al quirinale citando ad esempio giovanni leone ricordando le posizioni favorevoli alla non rielegibilità del presidente della repubblica e l'eliminazione del semestre bianco per salvini tutti i candidati sono candidabili per la corsa al colle la facoltà di decidere spetterà ovviamente al parlamento e ai grandi elettori che per eleggere il prossimo capo dello stato dovranno convergere su una figura non di parte e possibilmente trasversale insomma un profilo non divisivo e che nelle intenzioni della lega non sia palesemente schierato a sinistra e